Un cordiale saluto, ben ritrovati all'edizione serale del nostro TG Mark. In apertura parliamo di A14, avrebbe dovuto riaprire nelle prossime ore la Galleria Vinci di Cupra Marittima. Invece i lavori sono stati effettuati in tempi record e già da qualche giorno il traffico scorre lungo la direzione sud. Ma sarà necessario fare altri lavori strutturali con tutta probabilità dopo l'estate. Intanto Società Autostrade rispetto alla terza corsia per il sud delle Marche dice che è in discussione nel piano economico finanziario. Avrebbe dovuto riaprire in queste ore prima del ponte del 25 aprile e invece è tornata percorribile. Con una settimana di anticipo la Galleria Vinci di Cupra Marittima tra Pedaso e Grotta Mare, teatro dell'incendio di Vampato per l'incidente mortale del 4 aprile. Dunque in tempi record, come ricorda il responsabile del settimo tronco autostradale, Cristian Tucciarone. Allora, la Galleria Vinci a cui lei fa riferimento è stata riaperta al traffico qualche giorno fa. Siamo riusciti attraverso un intervento con 40 maestranze che hanno lavorato H24, 7 giorni su 7, a riaprirla prima di questi ponti del 25 aprile e del 1 maggio, con 6 giorni di anticipo e per ridare pieno traffico alle persone che attraverseranno le Marche e l'Abruzzo in questi giorni. Questa è stata però una soluzione tampone perché i danni provocati dalle fiamme sono stati ingenti e serviranno altri lavori che con probabilità partiranno dopo l'estate. Per la Galleria i passaggi successivi saranno quelli di progettare un intervento definitivo, di tipo strutturale. Stiamo vedendo in questi mesi di capire che tipo di intervento e le tempistiche connesse. Guardando ancora oltre ovvero la terza corsia da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto, di certo c'è che le Marche non vogliono più aspettare. Parola dell'assessore Baldelli che si è detto pronto a stilare un manifesto da presentare al ministro Salvini, condiviso con i sindaci del territorio e le associazioni di categoria, particolarmente penalizzate dai disagi nel percorrere il collo di bottiglia che si forma nel tratto a sud delle Marche. Su questo tema Aspi risponde così. La terza corsia martigiana è un potenziamento autostradale di cui noi abbiamo iniziato a valutarne la fattibilità. È un qualcosa in discussione con le autorità regionali e anche con i nostri stakeholder ministeriali. Evidentemente entra in un ambito molto più ampio che quello del piano economico finanziario dell'autostrada per l'Italia che è in discussione proprio in questi mesi. Ed ora la cronaca perché la Guardia di Finanza di Fermo ha denunciato il cugino di un uomo defunto il quale falsificando due testamenti si era appropriato di un'eredità di quasi 2 milioni di euro. Era stato uno dei legittimi eredi a rivolgersi alla magistratura. Ci fa il punto Luigi Miozzi. Aveva falsificato due testamenti per appropriarsi dell'eredità milionaria dell'uomo di cui era amministratore di sostegno. A svelare la truffa messa in atto ai danni dei parenti dell'uomo defunto sono stati gli agenti della Guardia di Finanza di Fermo intervenuti a seguito della denuncia presentata da uno dei legittimi eredi. L'attività investigativa coordinata dalla locale procura ha consentito di accertare a seguito di una certosina attività di indagine e attente perisi e grafologiche calligrafiche la falsità dei testamenti pubblicati a seguito della morte dell'assistito che era stato sottoposto da amministrazioni di sostegno a causa del suo stato vegetativo e dell'incapacità di intendere e di volere. A distanza di circa un mese dal decesso erano stati pubblicati due testamenti a cura dell'amministratore di sostegno, nonché cugino del defunto. Dalla lettura dei medesimi risultava che l'assistito aveva nominato con un primo testamento il suo stesso amministratore di sostegno in qualità di erede universale, una decisione che sarebbe stata motivata dalla vicinanza e dall'assistenza che aveva garantito al parente negli ultimi anni della sua vita. Con il secondo testamento invece la moglie dell'amministratore veniva indicata come beneficiario di una polizza vita in sostituzione di quelli precedentemente indicati in polizza. La consulenza grafologica calligrafica ha accertato la falsità dei testamenti che sarebbero stati posti in essere dall'amministratore di sostegno di proprio pugno simulando nella redazione da parte del cugino ormai defunto. Le firme, apposte sui due documenti olografi, perfettamente sovrapponibili, secondo quanto emerso dalla perizia disposta, potrebbero essere state riprodotte dallo stesso amministratore usando, a modello, la firma in calce alla carta d'identità del defunto. Una volta acquisito in maniera fraudolenta il patrimonio di 1,8 milioni di euro, apparentemente espressione delle ultime volontà del defunto, l'erede illegittimo e la sua famiglia hanno posto in essere una serie di operazioni finanziarie diversificate investendo in titoli una parte della somma. Le capillari indagini esperite dai finanzieri del gruppo di fermo hanno consentito di identificare tutti i flussi di denaro incamerati grazie alla presunta condotta illecita. L'amministratore di sostegno è stato denunciato e, a seguito del provvedimento cautelare emesso dal GIP di fermo, il denaro, presente sui conti e i valori mobiliari acquistati, sono stati sottoposti a sequestro. Andavano a caccia di contanti nelle casse dei negozi, quattro colpi in poche ore, sono scattati due arresti, la polizia ha bloccato infatti due foggiani che avevano colpito ad Ancona. Lo insegna qualsiasi telefilm giallo o poliziesco americano. Mai compiere un furto o un delitto, senza guanti. Un'impronta digitale può infatti incastrare chi compie l'azione criminale. Proprio come è accaduto ad Ancona, dove due malviventi hanno messo a segno quattro furti in una notte, ma sono stati incastrati dai poliziotti della squadra mobile. In manette sono finite due persone di origine foggiana di 27 e 29 anni, già noti alle forze dell'ordine. Sono stati rintracciati uno in un appartamento a Bologna e l'altro in un'abitazione in provincia di Foggia. Gli investigatori sono risaliti ai vari colpi messi a segno dai ladri. Nella notte dello scorso 16 marzo si erano introdotti all'interno di un ristorante e successivamente, dopo aver sfondato la porta a vetro d'ingresso e neutralizzato il sistema di videosorveglianza, avevano preso il cassetto del registratore di cassa con 500 euro. Subito dopo, un furto all'interno di un bar poco distante e dopo aver divelto una finestra laterale, hanno preso di mira il registratore di cassa con 350 euro. La serie di colpi è poi proseguita in una macelleria distante a un centinaio di metri, dove, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rubato 650 euro. Infine, dopo aver forzato la porta d'ingresso di un vicino supermercato, avevano rubato dal barattolo nascosto sotto il bancone la somma di 4.250 euro. Le indagini erano subito scattate da parte dei poliziotti della Mobile, che con la collaborazione della Polizia Ferroviaria di Ancuna e della locale Polizia Scientifica, avevano permesso di identificare gli autori grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati sia all'interno di alcuni locali presi di mira che sulle pubbliche vie. Preziosi rilievi effettuati dalla scientifica, che hanno consentito di risalire a un'impronta digitale appartenente a uno degli indagati. A conclusione dell'attività investigativa, coordinata dalla Procuradorica, i poliziotti hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare e degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Restiamo ad Ancona. Erano volati tavoli e sedie nella mega rissa in Corso Mazzini dello scorso 5 aprile. Ora i responsabili sono stati tutti denunciati dai carabinieri del radiomobile di Ancona. Si tratta di sette giovani, tra loro alcuni minorenni. Quasi tutti sono africani e sudamericani. La lite era iniziata in via ben in casa, una traversa che collega i due corsi principali del capoluogo dorico, probabilmente scaturita dal disturbo arrecato alla clientela di un bar del posto da parte di quattro giovani che poi si erano avventati contro i rivali. Arrestare feriti anche i dipendenti di due locali, intervenuti nel tentativo di sedare la situazione. Il gruppo di ragazzi poi all'arrivo delle forze dell'ordine aveva anche opposto resistenza, mentre altri erano riusciti a darsi alla fuga. Ed ora il cerchio delle indagini è stato chiuso. Due classi delle scuole superiori anconetane per la prima volta nelle Marche entreranno nel supercarcere di Fossombrone. Lo ha annunciato in mattinata il procuratore capo Rossi. Sentiamo Teodora Stefanelli. Da un'idea nata dal procuratore capo della Corte di Appello di Ancona, il dottor Rossi, e dall'ufficio scolastico regionale, insieme all'Istituto Mattei di Urbino, due classi di scolaresche dell'Istituto Tecnico di Urbino entreranno all'interno del carcere di massima sicurezza di Fossombrone. Tante le attività svolte al suo interno dai laboratori fino a persone con pene molto lunghe che studiano per laurearsi. Ma sentiamo tutti i dettagli di questa iniziativa dalle parole del procuratore. L'Istituto Fossombrone, grazie all'impegno della direzione della Polizia Penitenziaria, riesce ad effettuare, non è il solo, mi piace citare anche Barcaglione ad Arezzo, riesce ad effettuare un'attività straordinaria di recupero dei detenuti. È un istituto pensato di alta sicurezza, quindi con detenuti che hanno reati importanti e lunghe condanne. E non di meno viene realizzata un'attività sia professionale di lavoro e di studio. Molte persone si sono laureate, diplomate, altre si stanno laureando. Un'attività concreta di recupero, nonostante la scarsità di mezzi che caratterizza i nostri istituti di pena. E questo è un progetto interessante anche per gli studenti, lo dicevamo prima, i ragazzi oggi non sono abituati a vedere queste realtà, è un'occasione unica per loro. Sì, è un'occasione, credo che sia interessante per loro. Da una parte forse è importante aiutarli ad acquisire un senso di responsabilità. Non è vero che nel nostro paese non si paga mai per gli errori che si fanno. E piacerebbe far vedere che si pagano invece gli errori. E quello è il posto dove questi errori si pagano. Ma nello stesso tempo far vedere a questi ragazzi che anche chi commette gli errori più gravi può recuperare, può riavere una seconda possibilità. Ed ora a San Benedetto dove a meno di una settimana dal naufragio dell'Antonio Padre ha affondato un altro peschereccio, il Mostrillo. Fortunatamente è accaduto in banchina appena l'equipaggio è rientrato in porto. Previsto nelle prossime ore il recupero dello scafo, danneggiato probabilmente da un'onda anomala. Intanto si cerca di contenere il possibile inquinamento. Un'altra notte difficile al porto di San Benedetto del Tronto, un'altra tragedia sfiorata per la marineria a soli cinque giorni dal naufragio dell'Antonio Padre, andato a picco dopo la collisione con una piattaforma a 6 miglia dalla costa Picena. Ad affondare è stato stavolta il moto Pesca Mostrillo, che stava tornando a terra dalla battuta di pesca a causa delle cattive condizioni meteomarine. Probabilmente è stata proprio un'onda anomala a causare dei danni al vecchio scafo in legno che avrebbe iniziato ad imbarcare acqua. Ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Per fortuna il comandante Nicola Ceroni Cicco Tosto di Martinsicuro è riuscito a rientrare in tempo e a mettere in salvo l'intero equipaggio formato da quattro persone. Il peschereccio, lungo 21 metri appena ormeggiato in banchina di riva, è affondato lì, adagiandosi sul fondale di circa 3 metri, con la parte sinistra dello scafo a pelo d'acqua e ancora visibile. La segnalazione è aggiunta nella tarda serata di lunedì alla sala operativa della locale Capitaneria e sul posto, oltre agli uomini della Guardia Costiera, sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Immediatamente il comandante del porto, il capitano di fregata Alessandra Di Maglio, ha aperto un'indagine per appurare i fatti e coordinare le operazioni necessarie al contenimento dell'eventuale inquinamento. L'autorità marittima ha diffidato l'armatore a porre in essere ogni azione finalizzata ad impedire la fuoriuscita di idrocarburi dal peschereccio e l'armatore ha subito provveduto a mettere in sicurezza il bacino portuale posizionando panne assorbenti. Solo nella giornata di domani i vigili del fuoco torneranno per recuperare l'imbarcazione e si potrà passare alla verifica dei danni. Intanto in queste ore in Capitaneria vengono ascoltati tutti i membri dell'equipaggio del peschereccio per ricostruire la dinamica dell'incidente. Salvare un milione di euro l'anno con i controlli abituali, questo l'obiettivo di One Healthone. In quest'ottica nasce così il progetto della nave della prevenzione che è partita dal porto di Ancona alla volta di Durazzo con medici per visite gratis a bordo. Con vita sana e controlli abituali è possibile salvare un milione di vite l'anno secondo i risultati di una ricerca Eurostat che mostra l'impatto di abitudini scorrette e mancate visite mediche sulle patologie più gravi. È partita dal porto di Ancona la AF Mia, la prima nave della salute sulla quale sono state effettuate visite gratuite ai passeggeri. Per la prima volta i viaggiatori, durante l'attesa della partenza e nel corso della traversata, hanno incontrato specialisti di genetica oncologica, di senologia, dermatologia, medicina vascolare, oculistica e nutrizione clinica. Il servizio ideato da One Healthone, realizzato grazie alla collaborazione di un partner privato, è il primo progetto realizzato in Italia con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, istituzioni, medici e media sulla necessità di promuovere il benessere del pianeta. One Healthone è un progetto che si propone di creare una rete attiva che possa promuovere una cultura di salute, unendo tante diverse professionalità, istituzioni sanitarie, politiche, ricercatori, scienziati, imprenditori, comunicatori, associazioni di pazienti di volontariato, tutti a bordo della nave della salute per erogare visite gratuite ai passeggeri. Abbiamo portato un format, quello del villaggio della salute, che ha erogato oltre 4.500 visite gratuite nell'ultimo anno a bordo di una nave, per cercare di raggiungere anche quei passeggeri che hanno tempo di attesa e che possono occuparsi anche della loro salute e della prevenzione. Quali sono gli obiettivi che vi siete preposti per il 2024? Ci proponiamo di continuare con le attività di prevenzione e di divulgazione delle buone pratiche. Prevenzione primaria e secondaria rappresentano le colonne portanti della nostra salute. In aggiunta a ciò, proprio il 7 maggio a Roma, saremo alle corsie sistine per creare il primo forum sulla One Health, un summit di oltre 60 esperti di tutta Italia nei vari settori della One Health, che ricordo essere la salute dell'uomo nel contesto dell'ecosistema e del mondo animale con cui interagisce, per cercare di adottare linee programmatiche, progettualità concrete, linee strategiche da presentare nelle sedi istituzionali. Come mai la scelta di una nave? È vero che i passeggeri quando salgono hanno dei tempi di attesa molto lunghi, come ha anche sottolineato, ma la scelta di questo progetto? Nasce da un'idea condivisa, sostenuta fortemente dall'armatore Alberto Rossi e abbiamo pensato di raggiungere quelle persone che viaggiano anche per motivi di lavoro e che magari non hanno possibilità e tempo di occuparsi dei propri bisogni di salute. Tante le tappe in giro per l'Italia, dunque anche in questo 2024, e poi si ritornerà anche ad Ancona. Le prossime programmate sono il 3 maggio a Milano, dove forniremo la vaccinazione per l'HPV e i test per l'HIV nella via Arcobaleno di Milano. Il 15 di maggio saremo a Nova Feltria a fornire visite gratuite e poi ci sarà la tappa di Senigallia, la Calabria e a seguire le principali città e regioni italiane. Ed ora parliamo di uno spettacolo rock per sensibilizzare alla sicurezza sul lavoro. Questa è l'iniziativa lanciata da Opram, l'organismo paritetico regionale artigianato Marche, per la sicurezza sul lavoro, che si terrà il 28 aprile in Piazza Roma ad Ancona. Safe, Work, Rock, la sicurezza sul lavoro suona note grintose e chi pensa che un tema serissimo come questo non possa essere visto con la lente dell'arte sbaglia. Sì, perché Opram, l'organismo paritetico regionale dell'artigianato per le Marche, che si occupa di supportare aziende e lavoratori verso un percorso di miglioramento sotto il profilo della sicurezza, ha organizzato il primo evento con concerti e musica rock dedicato a questo grande tema. L'appuntamento è in Piazza Roma ad Ancona il 28 aprile, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, dalle 5 alle 23 e 30. Abbiamo deciso di organizzarlo il 28 aprile, che è proprio la giornata mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro, uscendo dalle aziende e andando in piazza per cercare di arrivare da tutti, arrivare quindi non soltanto dai lavoratori e dai datori di lavoro, ma anche i comuni cittadini, i ragazzi, perché cercare di sensibilizzare tutti fin dalla giovane età è comunque importante, la sicurezza è alla base di tutto. In questo caso non portiamo numeri, non parliamo di incidenti e infortuni, portiamo musica, parole, colori, ma per agire in maniera diversa, per cercare di raggiungere in maniera diversa quelli che sono i cittadini, i lavoratori e tutte le persone coinvolte. Sul palco si alterneranno tante band, si comincerà alle 17 con le scuole musicali, Guglior Mella e Sona Vox, Lotus Tribute Band e Florilegio. Si proseguirà alle 20 con Rock'n'Safe e per finire alle 21 e 30 si esibiranno i Curnalcol. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming, mentre la piazza sarà animata anche da stand gastronomici con street food e birre artigianali. Nel gazebo dedicato alle informazioni, inoltre un artista dipingerà una serie di acquarelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza. Da esperta, quali sono le cose che si potrebbero migliorare? Sono tantissime, ma soprattutto per le piccole aziende è necessario che ci possano essere queste visite fatte dai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza che vanno in azienda, vedono qual è la situazione all'interno dell'azienda, parlano con i lavoratori e si cerca di andare a porre rimedio in quelle che possono essere situazioni critiche. Tutto questo al fine di prevenire gli infortuni e anche le malattie professionali. Ci consente di celebrare una giornata che è la giornata per la sicurezza sul lavoro che assume i contorni sempre più di attualità, purtroppo. Ci consente anche di far conoscere meglio questo organismo paritetico che è l'OPRAM che ringraziamo e la terza ragione è perché ci consente di ampliare l'offerta anche delle iniziative e dei grandi eventi all'interno della città di Ancona in chiave urbana e lo facciamo toccando appunto un tema sicuramente d'attualità, sicuramente importante in una chiave rock, scuole di musica piuttosto che altre realtà importanti della città di Ancona. Ed ora parliamo del cosiddetto oro liquido l'olio Evo, protagonista del primo incontro organizzato dall'Associazione Cuochi della provincia di Fermo per parlare di tradizioni, salute, benessere e futuro delle marche. Si è tenuta lunedì 22 aprile presso l'hotel La Storia di Fermo la cena conferenza dal titolo Olio Evo, esperienze di gusto. La serata di discussione e degustazione si inserisce nel progetto dell'Associazione Cuochi della provincia di Fermo denominato Le Marche, una regione al plurale esperienza, cultura, turismo che nasce dalla ricerca storica dal recupero di una tradizione contadina dalla qualità dei prodotti e prosegue nel suo cammino di esperienze di gusto e lo fa con una serie di eventi in partnership con l'Associazione Marca Fermana. È un progetto da anni coltivato anche da chi mi ha preceduto, Sandro Pazzaglia e l'obiettivo è quello di non dimenticare di non guardare all'indietro perché il mondo va avanti ma non dimenticare ciò che è stata la nostra storia soprattutto enogastronomica perché di quello ovviamente noi trattiamo e un mondo che va sempre più globalizzandosi in cui tutto viene appiattito noi crediamo che sia fondamentale per un'economia piccola come la nostra mantenere certe tradizioni certe ricette, certe materie prima che altrimenti va a scomparire. Protagonista indiscusso di questo primo appuntamento è stato l'olio naturalmente evo in tutte le sue declinazioni in un viaggio che dalle colline ricche di Luiveti conduce in cucina in cui l'olio è l'elemento cardine della dieta mediterranea e apportatore di salute e benessere. Il territorio si racconta e si racconta anche e soprattutto attraverso i suoi prodotti tipici che sono capaci di una provocazione esperienziale che rende il viaggio un'esperienza di eccellenza un'occasione di eccellenza. La Regione Marche ha puntato molto su questo giustamente citava la legge sul benessere e tutto il tema della promozione turistica è legato a questa possibilità di fruire a 360 gradi la proposta che le Marche sanno portare al mondo. Una degustazione di oli monovarietali uno per ogni provincia della Regione curata dal sommelier ed esperto di oli vergini di oliva Palmiro Ciccarelli ha dato il via poi alla cena in cui oli e cibi si sono sposati importate e preparate a più mani da alcuni degli chef dell'associazione. È stata poi la volta dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio con Leonardo Seghetti l'olio come elemento essenziale fondante della dieta mediterranea nell'intervento di Lando Siliquini quindi il dirigente medico della clinica di endocrinologia degli ospedali riuniti di Ancona Massimiliano Petrelli per la trattazione scientifica e Sandro Pazzaia con cultura, tradizione e salute del territorio marchigiano. Il Fermano è legato a questa cultura enogastronomica così come tutte le prelibatezze che abbiamo nel nostro territorio ma quando parliamo di olio evo parliamo di qualcosa che ci dà anche immediatamente la sensazione di benessere infatti tocchiamo anche il mondo della salute non solo quella del benessere fisico e addirittura ci sono situazioni dove l'olio evo viene indicata appunto per una salute una sana alimentazione il territorio del Fermano ne è davvero partecipe e il comune di Fermo ne è entusiasta questo è un primo appuntamento è uno sperimentarsi è qualcosa che il territorio vive da tanto ma è il momento proprio di fare squadra e di entrare in gioco su questo tema non ci sono altri aggiornamenti una breve pausa e poi il Tg Sport